E' ora di andare. Voltare a sinistra. E' ora di andare. E' ora di andare. Tenersi a destra. E' ora di andare. Tenersi a sinistra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. E' ora di andare. 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 Tenersi a sinistra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. E' ora di andare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E irse a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra e uscire a destra. Uscire a destra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra. 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 Voltare a destra.